I primi tre mesi della mia vita coniugale con Sara filarono gli sci, ma dopo cominciarono i guai. Era una brava cuoca e per la prima volta da chissà quanti anni mangiavo bene, tanto che mettevo su ciccia. E allora lei prese a rimbrottarmi. Ah Henry, Henry, sai chi mi pari? Mi pare un tacchino messo all'ingrasso per le feste. E che male c'è, baby? Ripettevo io. Avevo un posto da spedizioniere in un magazzino di ricambi auto e la paga bastava sieno. Le mie uniche gioie erano mangiare, bere birra e andare a letto con Sara. Non quel che si dice una gran vita, ma tocca accontentarsi. Sara era bella, tutto in lei parlava di sesso. L'avevo conosciuta a un party sotto Natale, per i dipendenti del magazzino. Lei lavorava là, la segretaria. Notai che nessuno le andava vicino alla festa e non riuscivo a capire perché. Non avevo mai visto una donna più sexy e non è che facesse la stronza. Mi feci avanti, ci mettemmo a chiacchierare. Bellissima era. Ma c'aveva un non so che di strano negli occhi. Ti guardava fisso fisso senza battere le palpebre. Quando andò alla toilette, presi in disparte a Harry, il camionista. Di un po', Harry, gli feci. Come va che nessuno si fa sotto con Sara? È una strega, amico mio, è una vera strega. Sta alla larga. Ma le streghe non esistono, Harry. È stato dimostrato. Quelle povere donne che mettevano a rogo i tempi antichi si trattava di un errore tremendo e crudele. Non esiste la strega, né roba del genere. Magari avranno bruciato un mucchio di donne ingiustamente. Questo non lo so. Ma sta strega è una strega, la Miretta. Non ha bisogno d'altro, Harry, che di comprensione. Non ha bisogno altro, disse Harry, che di una vittima. E tu come lo sai? Stiamo ai fatti, disse Harry. Prendi Manny, come il suo viaggiatore. Prendi Lincoln, ragioniere. E che gli è successo? Spariti. Come dire, scomparsi davanti ai nostri occhi. Ma piano piano, eh? L'abbiamo visti svanire a poco a poco. Cosa vuoi dire? Non mi va di parlarne. Mi piglieresti per matto. E se ne andò. Poi Sara ritornò dalla toilette. Più bella che mai. Cosa ti ha detto Harry di me? Mi domandò. Come sai che parlavo con Harry? Lo so, disse. Non è che mi abbia detto tanto. Qualunque cosa ti abbia detto, scortalo. Sono tutte fandonie. È geloso. Perché con lui non ci sono stata. È uno che gli piace sparlare della gente. Non mi curo delle opinioni di Henry, le dissi. Mi sa tanto che io e te, Henry, ce la spasseremo, mi disse. Venne da me, dopo il party. Io vi assicuro che non avevo mai goduto tanto. Era la fine del mondo quella donna. Di lì a due mesi, più o meno, ci sposammo. Sara si licenziò su due piedi. Ma io non dissi nulla, perché ero troppo felice di averla. Si cuciva i vestiti da sé, si faceva i capelli da sé. Era una donna in gamba. In gambissima. Come ho già detto, in capo a tre mesi cominciò a rimbrottarmi per via del mangiare. Da principio battutine scherzose, gioviali. Poi si fece spezzante, via via. Una sera torno a casa e lei mi fa. Spogliati, tira via, mannaggia te. Cosa, darling? Hai sentito, bastardo? Spogliati. Era un po' cambiata Sara da quando ci eravamo conosciuti. Mi torsi i vestiti, le biancherie, li bontai sul divano. Essa mi squadrò. Fai schifo, disse. Sembra un sacco di merda. Ma che cosa dici? Ho detto che mi pare un mastello di merda. Eh, tesoro, che cosa c'è che non vai? Il ciclo per caso? Stai zitto. Ma guarda lì che piega di l'arto che hai. Aveva ragione. Mi correva una fascia di grasso a tutto intorno alla vita. Prese a picchiarmi dei pugni sulle borse sporgenti dei fianchi. Bisogna smaltirla, questa ciccia. Eliminare i tessuti adiposi, le cellule di lardo. Mi seguitava a tempestarmi di pugni. Baby, mi fai male? Bene. Adesso menati da te. Ma come menarmi? Dai, scazzottati, prendi i tuoi pugni. Prese a percuotermi abbastanza forte. Finita la battitura, i cuscinetti di lardo erano sempre lì. In più, erano tutti arrossati. Smaltiremo quella ciccia merdosa. Stai tranquillo, mi disse. Mi ama, pensai tra me. Decisi di collaborare. Sara prese a contarmi le calorie. Mi vedo i fritti, il pane, le patate. Insalata scondita. Sulla birra però terni duro. Dovevo farle vedere chi portava i calzoni. A casa nostra. No, cazzo, le dissi. La birra non ci rinuncio, ti amo, ti voglio bene. Ma la birra vado a berla. Va bene, disse Sara. Faremo uno strappo. Ci riusciremo lo stesso. E riuscire a cosa? A sbattire quello schifo. A portarti alla taglia ideale. Quale sarebbe la mia taglia ideale? Vedrai. Ogni sera al mio rientro la stessa domanda. Ti sei dato dei cazzotti sui fianchi? E altro che? Quante botte? 400. 400 per parte. Belle e forte. Sì, camminavo per strada e mi davo i pugni sui fianchi. La gente si voltava a guardarmi. Ma io non ci feci più caso dopo un po'. Avevo uno scopo. Loro no. La cosa funzionava a meraviglia. Da 103 kg scesi a 89 kg. Poi da 89 a 82,5 kg. Mi pareva di essere un giovanito di 10 anni. La gente mi trovava di ottimo aspetto. Tutti si complimentavano con me. Tranne era il camionista. Certo era geloso. Perché non era riuscito a farsi Sara. Cazzi suoi. Una sera mi pesai 80 kg. Disse a Sara. Ci possiamo accontentare? Non ti pare? Guarda che silhouette. Le falde adipose erano da tempo sparite. Il ventre adesso era piatto. Le guance incavate. Secondo le tabelle andresti bene. Disse Sara. Ma per me non hai raggiunto ancora la taglia ideale. Senti. Le dissi. Sono un alto un metro e ottanta. Qual è il peso ideale per me? Allora Sara mi rispose. In un modo un po' strano. Non ho mica detto il peso ideale. Ho parlato di taglia ideale. Viviamo nell'era atomica. Nell'era spaziale. Ma soprattutto nell'era del sovraffollamento. E io sono la salvatrice del mondo. Lo so io come risolvere la questione del sovraffollamento. Altro che ecologia. Alla radice del problema. C'è l'eccesso di popolazione. Se si risolve questo. Si rimedia anche all'inquinamento e tante altre cose. Ma di che cazzo stai parlando? Le chiesi stampando una bottiglia di birra. Non ti preoccupare. Mi rispose. Te ne accorgerai. A un certo punto notai che pur seguitando a calare di peso. Non dimagrivo oltre. Era strano. Poi mi accorsi che i risvolti dei calzoni mi ricadevano un po' sopra le scarpe. Un tantino. E che i polsini della camicia mi andavano un po' lunghi. guidando l'auto mi pareva che il volante mi stesse più lontano. Mi toccò avvicinare il sedile di un intacco. Una sera salì sulla bilancia. 69 chili. Guarda qua Sara. Che c'è more? C'è qualcosa che non mi batte. Cosa? Mi sa che mi restringo. Ti restringi? Sì mi ritiro. Ah scemo. Non ti restringono. Non si restringono mica i cristiani. Pensi che stando a dieta si ritirino le ossa. Le ossa non si accorgono. Riducendo le calorie. Si riduce il grasso e basta. Non dire idiozia e ti restringi. Impossibile. Esco più a ridere. Va bene? Dissi io. Vieni qua. Ecco una matita. Ora mi metto contro la parete. E come faceva mia madre nell'età dello sviluppo per controllare se crescevo? Fai un segno sul muro. Dove arrivo con la testa. Va bene sciocchino. Disse lei. Troccio una riga. Una settimana dopo ero sceso a 60 kg scarsi. Il calo si faceva sempre più rapido. Vieni qua Sara. Ma sei sciocchino. Fai un po' un segno. Troccio una riga. Mi voltai. Vedi? Vedi? Ho perduto una decina di chili in una settimana. E mi sono abbassato di 8 pollici. Mi sto squagliando. Sono alto 1,55. E' una pazzia. E' una pazzia bella e buona. Una pazzia. E' abbastanza. Me ne sono accorto che mi accorci il calzo e le camice. Sai? Non ci sto. Adesso mi rimetto a mangiare come prima. ma credo proprio che tu sia una specie di strega. Sciocchino. Di lì a poco il principale mi chiamò nel suo ufficio. Mi arrampicai sulla sedia davanti alla sua scrivania. Henry Markson Jones Jr.? Eh sì, sì, mi dica. Lei sarebbe Henry Markson Jones Jr.? Sì, sì signore, sì. Ecco Jones. Noi l'abbiamo osservata attentamente. Temo che lei non sia più adatta alle mansioni che sguardo. Ci dispiace vederla andare via. Voglio dire, ci dispiace doverla mandare via in questo modo. Ma signore, io faccio del mio meglio. Lo so Jones, ma vede, lei non è più all'altezza dei suoi compiti. Mi licenziò. Certo, avrei riscosso il sussidio di disoccupazione. Ma lo stesso pensai che era un bischero a buttarmi fuori così. Restai a casa con Sara. Peggio che peggio. Per mangiare dipendevo da lei. Non arrivavo più nemmeno alla maniglia del frigorifero. Poi un giorno mi mise alla catena. Mi legò una catenella d'argento. Era ormai alto 60 centimetri. Cagavo in un orinaletto. Però la birra me la dava sempre, come promesso. Oh, che coccolo che sei, mi diceva. Così piccino, così caruccio. Anche la nostra vita amorosa era finita. Tutto quanto mi si era ridotto in proporzione. La montavo, ma dopo un po' mi tirava via e rideva. Beh, ci hai provato piccioncino. Non sono un piccione, sono un uomo. Oh, il mio caro piccolometto. Mi tirava su e mi baciava con quelle labbra rosse. Sara mi ridusse alla statura di sei pollici. Mi portava con sé a fare la spesa della sporta. Ma facciava guardare la gente attraverso dei buchi che lei aveva fatto. Devo dire una cosa a suo favore. Mi lasciava sempre bere la mia birra. Ma bevevo in un ditale. Un litro mi durava un mese. Ai vecchi tempi lo facevo fuori in 45 minuti. Ero rassegnato. Sapevo che se avessi voluto mi avrebbe potuto far svanire del tutto. Meglio sei pollici di niente. Anche un pochino di vita ti è cara quando sei. Alla fine della vita. Quindi facevo divertire Sara. Era tutto quello che potevo fare. Mi confezionava vestitucci e scarpini. Mi metteva sopra la radio. Accendeva la musica e... Balla, balla Avellino. Balla, su, balla piccolo babbeo. Beh, non potevo passare a riscuotere il sussidio di disoccupazione. Così ballavo sopra la radio mentre lei batteva le mani e rideva. Vi dirò, i ragni mi mettevano una paura tremenda. Le mosche erano grandi come aquile gigantesche per me. E se un gatto mi avesse acchiappato si sarebbe divertito a torturarmi come un topolino. Ma la vita mi era cara lo stesso. Soballavo, cantavo e resistevo. Per il poco che abbia, un uomo si accorge che potrebbe avere ancora meno. Quando facevo la cacca sul tappeto, mi sculacciava. Dovevo farla su dei pezzi di carta che Sara puliva apposta, in giro. Che la lasciava apposta in giro. E io ne laceravo un lembo per pulirmici il sedere. Era come cartone, però mi vendero le emorroidi. Non riuscivo a dormire la notte perché un complesso di inferiorità mi sentivo in trappola. Paranoia? Comunque mi sentivo bene e ballavo e cantavo. E poi Sara mi dava la birra. Ci sarà certo stato un motivo per lasciarmi in quel formato lì, sei pollici esatti. Ma quale fosse, non lo sapevo mica, mi sfuggiva. Eppure lei mi chiamava quasi, come pure mi sfuggiva quasi tutto. Inventavo canzonette per Sara, così le chiamavo. Canzoni per Sara, sono un piccolo gnombo da strapazzo. Tutto va bene finché non mi arrazzo, che non c'è nulla che mi renda pago. Tram di là solo la cruna di un ago. Sara rideva e batteva le mani. Sara rideva e batteva le mani. Beh, perlomeno in questo andava bene. Bisognava accontentarsi. Ma una sera successe qualcosa di molto disgustoso. Io ballavo e cantavo. E Sara stava distesa, nuda, sul letto. Battendo le mani. A bere vino e ridere. Stavo esibendomi in uno dei miei numeri migliori. Ma al solito il ripiano della radio si era riscaldato e mi scottava i piedi. Non resistevo più. Senti, baby, le dissi, qui scotta, mettimi giù. Dammi una birra, non il vino. Bevilò tu, quel vinaccio da quattro soldi. Dammi un ditale di quell'ottima birra. Sicuro dolcezza, mi disse. Hai fatto un gran bel numero stasera, baby. Se Mandy e Lincoln fossero stati bravi come te, sarebbero qui a quest'ora. Loro invece non ballavano. Non cantavano. Si malinconivano e basta. E quel che è peggio, non volevano prestarsi. Al gran finale. E qual è il gran finale? Chiesi io. Ora, dolce, tocciccio, amore. Bevi la birra e rilassati. Voglio che te lo godi il gran finale. È evidente che tu hai molto più talento di Mandy o di Lincoln. Credo proprio che io e te arriveremmo al culmine degli opposti. E il diavolo, come no? Dissi io, scolando la birra. Farei bis. Dammi un'altra, per favore. E dimmi che cos'è il culmine degli opposti. Goditi la tua birra, dolcettino. Lo saprai molto presto. Finì la seconda birra. Poi la cosa disgustosa e bel luogo. Una cosa molto, molto disgustosa. Sara mi agguantò e mi piazzò fra le sue cosce. Che allargò un tantinello. Qui mi trovai di fronte a una foresta di peli. I rigidi muscoli della schiena e del collo. Avendo capito l'antifona, venne schiaffato dentro, al buio. Udivo Sara a gemere. Poi cominciò a muovermi, piano piano, avanti e indietro. Come ho detto, c'era anche puzza. E poi facevo difficoltà a respirare. Però l'aria non è che mancasse del tutto. Anzi, c'erano spifferi, zaffate. Ogni tanto, con la testa, con la sommità del canio, andavo a corzare contro il grilletto. E allora Sara metteva un gemito più profondo, prolungato. Cominciò a muovermi più velocemente. Sempre più la svelta. La pelle mi scottava. Respirare si faceva sempre più difficile. L'odore più atroce. La sentivo palpitare. Capii che prima compissi l'opera, meno avrei tribolato. Ogni volta che venivo stantuffato in avanti, mi narcavo la schiena e il collo. Mi narcavo più che potessi, per andare a cozzare contro il grilletto. D'improvviso venni estratto da quell'orrendo cunicolo. Sara mi sollevò all'altezza del suo viso. Vieni, diavolo d'un coso, vieni, mi ordinò. Era ebra. Sara, divino e di passione, mi edificò di furia nella grotta. Mi spingeva avanti e indietro, svelta, svelta. Poi, d'un tatto, respirai profondamente per gonfiare il petto. Radunai saliva nella bocca e le sputai. Una volta, due, tre, quattro, cinque, sei volte. Poi gli smisi. La puzza aumentò di intensità, da non potersi manco immaginare. Poi alla fine venne tirato fuori l'aria aperta. Sara mi sollevò sotto la lampada e cominciò a baciarmi sulla testa e sulle spalle. Oh, tesoro mio, prezioso uccello, ti amo. Mi baciava con quelle orribili labbra pitturate. Vomitai. Esausta e languidita tra i fumi del vino e del piacere, mi collocò sul petto. Mi cucciai là, ascoltando il battito del suo cuore. Mi aveva sciolto. Non avevo più quel dannato guinzaglio, ma lo stesso mi sentivo oppresso. Uno dei suoi enormi seni mi pesava addosso, reclinando un po' di lato. Mi trovai proprio sopra il suo cuore. Il cuore della strega. Se io rappresentavo il rimedio al sovraffollamento del mondo, perché mi avevo usato semplicemente come un oggetto di svago, un giocattolo sessuale? Là, sdraiato, ascoltavo quel cuore. Non c'erano più dubbi. Era una strega. Poi guardai su e indovinate cosa vidi. Una cosa sorprendente. Un piccolo interstizio nella testiera. Uno spillone. Una spilla di quelle che guarniscono i cappelli delle donne, lunga, con la grande capocchia di vetro colorato. Minier, piccai fra i seni, su per la gola, recline, mi sai sul mento, con grande fatica. Poi le camminai sul viso. Quando feci una smorfia nel sonno, io persi l'equilibrio. Mi dovetti afferrare a una narice. Lentamente mi rialzai presso l'occhio destro, teneva la testa leggermente reclinata a sinistra, e di lì balzai sulla tempia, avanzai verso il centro della fronte. Mi infrattai fra i capelli. Molto ardu aprirsi un varco in quell'intrico. Alla fine mi tesi, mi allungai, riuscii ad arrivare fino a quella spilla. Una discesa più rapida, ma anche più rischiosa. Diverse volte stetti per perdere l'equilibrio, trasportando lo spillone. Si cadeva alla fine. Diverse volte risi, tra me e me, perché era una cosa ridicola. Belli risultato quel party aziendale. Buon Natale. Rieccomi addosso della grande mammella. Posai giù lo spillone e tesi l'orecchio. Individuai il punto esatto del battito cardiaco. Si trovava esattamente sotto un piccolo neo. Mi rialzai in piedi, bandi lo spillone con una grossa capocchia purpurea, bellissima alla luce della lampada, e pensai, funzionerà? Io ero alto sei pollici. Lo spillone misuravo una volta e mezzo a me. Nove pollici. Il cuore non doveva trovarsi a una maggiore profondità. Sollevai lo spillone e lo conficcai nella carne, proprio sotto quel neo. Sara si agitò convulsamente. Io mi teni saldo allo spillone. A momenti mi scaraventava giù sul pavimento. Sarebbe stato come cadere dal quinto piano. Mi sarei sfracellato. Ma teni duro. Dalle labbra le uscì uno strano suono. Poi fu scossa da un fremito per tutte le membra. Strinsi i denti e spinsi dentro gli ultimi tre pollici di spillone. Giù, dentro il suo petto. Ve li immersi fino alla capocchia. Allora Sara restò immobile. L'ascoltai. Udì il cuore. Uno, due. Uno, due. Uno. Si fermò. Allora mi abbrancai con le piccole mani da assassino a lenzuolo. E a muscoli mi calai sul pavimento. Ero alto sei pollici. Ero vivo. Avevo paura. Avevo fame. Trovai un barco tra le stecche di una porta finestra. Mi aggrappai ad una pianta rampicante e mi calai giù, all'interno di un cespuglio. Nessuno sapeva che Sara era morta, tranne io. Ma c'era poco da stare allegri. Se volevo tirare a campare, bisognava che trovassi di che nutrirmi. Non avevo la più pallida idea di come si configurasse il mio caso di fronte alla legge. Ero colpevole. Ero colpevole. Ero colpevole. Staccare una foglia e cercai di mangiarla. Incomestibile. Poi vedi quelina di rimpetto nel cortile. metter fuori una scodella di cibo per gatti. strisciai fuori dal cespuglio e mi diressi quattro, quattro verso quella scodella allerta a ogni minimo rumore. Era il cibo più schifoso che avessi mai mangiato. Ma c'era poco da farlo schizzinoso. Mi mangiai quanto più potevo. Il sapore della morte è anche peggiore. Tornai nel cespuglio e mi nascosi nel folto. Ed eccomi là, alto sei pollici, come rimedio al sovraffollamento demografico, infrattato in un cespuglio, con una pancia piena di cibo per gatti. Non vi voglio annoiare con tanti dettagli. Erano continue fughe da cani, gatti, topi. Mi sentivo ricrescere a poco a poco. Alla fine portarono via il cadavere di Sara. Rientrai in casa, ma era ancora troppo basso per aprire lo sportello del frigo. Un giorno il gatto mi sorprese a rubargli da mangiare e a momenti mi sbranava. Bisognava cambiare aria. Ero adesso alto quasi dieci pollici. Seguitavo a crescere. Riuscivo già a mettere spavento ai piccioni. Quando metti paura ai piccioni è segno che sei a buon punto. Così un giorno mi avventurai per la strada, tenendomi a riparo, come meglio potessi, nei punti più in ombra, tra le siepi, così via. Così spiccando, corse e nascondendomi, arrivai al supermercato. Qui mi rimpiattai sotto il chiosco dei giornali accanto all'ingresso. Appena la porta automatica si aprì per lasciare entrare una massaia, io sgattai la linea dentro appresso a lei. Uno degli inservienti si girò di scatto la testa mentre io schizzavo all'interno dietro la massaia. Ehi, ma che cazzo è quello? Cosa? Comandò un cliente. Mi era perso di vedere qualcosa, avesse l'addetto. Mi sono sbagliato. Wow, spero. Riuscii a infilarmi senza essere visto nel salone. E qui trovai rifugio dietro certi scatoloni di pomodori pelati. Appena notte uscii dal mio nascondiglio e mi feci una bella scorpacciata. Sottaceti, prosciutto, gallette di sega, patatine fitte, birra, un bel po' di birra. Divendo il mio trantrana. Tutto il giorno mi tenevo ben nascosto. La sera uscivo fuori e banchettavo. Siccome ero in crescita, stare acquattato si faceva via via più difficile. Ogni sera il direttore chiudeva l'incasso della giornata nella cassaforte. Era lui l'ultimo ad andarsene. Osservavo attentamente le sue mosse. Quando formava la combinazione, poi provavo a calcolare. 7 a destra, 6 a sinistra, 4 a destra, 6 a sinistra, 3 a destra, aperta. Ogni sera andavo là e facevo un tentativo con quei numeri. Mi toccava salire sul piedistallo di scatoloni per arrivare fino alla manopola. Non li imbroccavo mai, ma seguitavo a tentare. Ogni sera tentavo di nuovo. Intanto crescevo, crescevo rapidamente. Ero arrivato a misurare ormai una novantina di centimetri. C'era anche un reparto abbigliamento e mi toccava passare a misurare a misure vie più grandi. Il problema del sovraffollamento rispuntava. Alla fine una sera la cassaforte si aprì. Mi appropriai di 23.000 dollari in contanti. Deve essere che si era la vigilia di un versamento in banca, pensai. Presi la chiave, di cui si serviva il direttore per uscire senza far scattare l'allarme antifurto. Mi allontanai di lì e al Sunset Hotel affittai una stanza. Pagai una settimana anticipata. Alla padrona dissi che lavoravo nel cinema come nano. Lei si mostrò solo annoiata. Niente tv, niente rumori molesti dopo le dieci di sera. E' la regola qui. Presi i soldi, mi spiccò una ricevuta, chiuse la porta. L'ogna stanza era una 103, così diceva la chiave. Non ero andato neanche a vederla prima. Camminando lentamente passai oltre le porte 98, 99, 100, 101 e scorgevo in lontananza verso nord il collino di Hollywood e più oltre le montagne mentre la gran luce fulgente del Signore pioveva su di me che crescevo.